All'andata abbiamo visto un ottimo Cesena, poi non li sto seguendo più di tanti, quindi non so dirti bene l'escursus, però sono là in alto, quindi qualcosa di positivo ce l'hanno sicuro. Sono arrivati tre nuovi giocatori, l'ultimo in ordine tempo per Toncini, come si sono inseriti? Molto bene, poi sono tre ottimi ragazzi, sono messi subito a disposizione e credo ci daranno una grossa mano, ci sono molte difficoltà più importanti. Voi arrivate da tre partite senza vittorie, il Cesena invece ha due vittorie consettutive alle spalle, stanno decisamente meglio loro dal punto di vista del morale e dei risultati. Beh, due vittorie di fila da morale penso a chiunque, però noi dobbiamo pensare a noi e basta, anche perché il momento è molto delicato e siamo consapevoli della posizione in cui siamo e vogliamo saltarci fuori subito.